Come funziona il cartraggio di toner? Il pallone principale metterà un pallone uniforme sulla superficie della trama. Poi il pallone di laser si incontra la trama. Nel punti che si incontra dal pallone di laser, la trama è eliminata e un'immagine electrostatico, o un'immagine, o un'immagine, è creata sulla trama. Il pallone di toner porta il toner in contatto con la trama. Ora il toner è attratto nelle zone del trama che hanno stato incontrato dal pallone laser, formando l'immagine o il testo sulla superficie della trama. L'immagine, fatta di particolari toner, è poi trasferita al paper che passa sotto il trama. Al fine del processo, il piatto di viper clina il trama dal toner di toner. L'opsy drum, organico fotoconductor drum, è questo. È un tubo aluminio con un colpo di diverse luci di chimiche. È spesso colore verde, ma potrebbe essere braun, blu, metallico. Le trame sono molto sensibili, quindi mantenetele in un posto scuro. Questo è il piatto di viper. Il piatto di viper è un piatto metallo con il piede di rubro. Il piatto di viper è sempre usabile, a meno dappi. Il piatto di blu si scrive direttamente sul trame e lavora il trame di ogni toner che non è trasferito al paper. Brothard toner cartergi, in solito, non hanno piatto di piatto di piatto. Un effetto sul piatto di piatto di piatto causerà una linea nera sul trame. Il piatto di piatto di piatto principale è un piatto rubro con un trame di metallo. È in contatto con il trame. È spesso nero o grano. Ha due supporti. La sua funzione è applicare un trame sul trame. Alcuni imprenditori, come i imprenditori di Brothard e la maggior parte dei copiatori, invece del trame di trame, hanno il trame di corona. È un trame di trame parallelo al trame, proteggendo da un grido di metallo. Il trame di trame è un trame di trame di trame. Il trame di trame è un trame di trame che è cubato con tonero. L'identificazione è facile. L'adulta trame il tonero vicino al trame. Può essere un trame metallo con rubro moldato, o un trame metallo con un magneto dentro. A volte ha delle bashe sui due occhi. Il trame scrive direttamente sui bashe. Prendono una spazia specifica, dal trame magnetico al trame. L'adulta trame controlla l'amount di tonero sul tonero roller. Può essere una spazia metallica, o una spazia metallica con un occhio rubro. L'adulta trame di trame. L'adulta trame è questa spazia miller, parallelo con l'adulta trame dell'adulta trame. Preventa il trame di trame dal trame di trame. Qualcora vedete queste strame warped, venendo fermi, usando la strame, è l'ora di riempirlo. Il toner hopper contiene il tonero. Quando riempisci il cartello di tonero, fulgisci il contenere. È diverso dal contenere di tonero che contiene il tonero di tonero è fuori da l'arulare. Il tonero di tonero è fuori da l'arulare.